a venire su eh? ti prendiamo il tubato per la testa ahahahahah non si chiama da oggi mia mia brutta eh? no vede che quando fogni un mezzo vengi fatto un abbonato erano tutti ammalati ma erano tutti ammalati ma erano tutti ammalati già adesso fate quella verso Pagolino e qua ci siamo arrivati no 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 no